Allora, let's move, no, let's move on, ok Dai S, Sì! Sì! C'è l'ho, sì che ce l'ho, sì! Mi impazzisco, divento matto! Questo è un chiaro segnale del futuro ragazzi Qua mi si strappo le coronari, ci gioco, ci gioca frustate Ci diventa matti qua! Ehi! Ragazzi, Neymar If! Guardate che meraviglia! Ragazzi, è una branda, guarda, è tutto 99 Ma se ne metti un'ombra potrebbe fare anche... Cosa c'ha in... Alto, alto, sarebbe troppo alto secondo me È un COC perfetto raga Allora, vediamo che pacchettini ho Allora, io direi di aprire questi sei qua Perché più che altro ci sono solo giocatori Madonna ragazzi, che caga Che caga Ti fa vedere quello sfondo blu e poi dopo che cos'è che fanno? Ti fanno uscire le cose blu al posto di Viola Impazzisco! Due su due, ma sei impazzito! Eh, oh, qua c'è l'attacco in cardia subito, eh Basta, ti prego, FIFA, basta! Basta! Damelo, Viola! E sarà! Però è pazzisco! Pazzisco! Divento matto! Non è walk out, va bene Dai, ci posso stare Rashford! Ragazzi, ma che cosa sono questi pacchi? Ma ragazzi, ma ho già trovato tutto quello che mi serviva Müller Ragazzi, Rashford Bruno E assolutamente Salah Bisogna trovare due punte No, una punta Faccio il 4-3-3 Cos'è IF questo? Non so riconoscerli Gli IF non ho mai capito, raga Ma Odrice Ok, questa dovrebbe essere Bandierina Isco Se vende Ah però, Gulasky Grazie Questo dovrebbe costicchiare Oggi non facciamo né Raymo né Medium, ragazzi Purtroppo il The Medium E' andato, ragazzi Non mi ricordavo Che ci fosse tutto Sti impegni oggi Vediamo Hitman Ancora Modric Ah E' proprio lui Ho finito i pacchi Allora Apriamoli tutti Ah, è vero Volevo dirla Che ci avete ragione, raga L'ultimo da 100 Così rimaniamo a 0 Ci sta Abbiamo già 63.000 crediti Eh, allora rosa Andiamo a fare intanto la nostra ipotetica rosa Ok, va bene Già userei 4-3-3 Come base Io userei questo Intanto è palla matta, ripeto Metti Salah Qua ci vai a mettere Rushford Vabbè, in porta Ci mettiamo un attimo lui Vediamo Andiamo a fare così Così Puppe Che cazzo è Puppe È forte lui, raga Ficchia, raga Vi state dicendo tutti Che questo è devastante Puppe è un dio Ragazzi, ma quanto costa? No, è pazzesco Fai calmo Ci mettiamo il papa Va bene, ragazzi Ok, mi aiutate voi A fare la squadra Quindi ci sta Tutto costa 3k Anche questo Di lui cosa mi prendo, raga? Mi prendo Leaf Cioè, mi prendo Non ce l'ha Leaf lui? No, non ce l'ha Ok Boh Eh, i centrali Il portiere ce l'abbiamo Sulle mani City Allora Abbiamo fatto esattamente Quello che Le regole richiedono Dobbiamo trovare Dobbiamo usare un portoghese E uno della stessa squadra Comunque campionato Di Bruno Fernandes Ok Ok Aggiungiamo la rosa Vendiamo Avers, raga Mettiamo Bruno CoC E prendiamo una bella punta Tipo Gabriel Jesus Bravo Gabriel Jesus Bella, bella, bella La notizia Gabriel Jesus Abbiamo 103.000 crediti Ragazzi Costa tanto, raga Verne a Leaf Non posso prenderlo Verne a Leaf Vinagre Argento Veniamo a Vinagre Sapete che cosa mi manca Di FIFA La vostra compagnia Ragazzi Su FIFA Mi davate una compagnia Impressionante Ragazzi Mi ha rotto il cazzo Questo vinagre Basta Asa Non ha da Ha già rotto i coglioni Questo, eh Ve lo dico Questo mi piace Robinson Questo Robinson E' scomodo, raga Come si chiama? Antone Robinson Kamadosk Ma sti cazzo Le ragazze Ma neanche il mio account Sto fa formichina Con su sto account A posto, raga Finito Va, fine Prima lui qua E fa Basta Prendo Pippo Prime Ragazzi Beh, così si Che sei esotico Gabbo di Squared Pippo Prime E' scomodo Teo Me lo consigli? Allora Eh Pippo Prime Fa il suo Minchia Che è 103 Magari Pippo per il meme Raga Per ride Dai Ace a pong Che cazzo è ace a pong Ma chi cazzo L'ha mai usato ace a pong Pippo A lui cosa ci metto? Io ci metterai un bel catalizzo No, passaggio ce l'ha già 98 Che pale Devo andare a prendere gli stili intesa Quanto costa Quanto costa Ombra Ma costa ancora tantissimo Raga Come no Ma costa un cazzo Ombra Mica costava 10k L'anno scorso Ombra Ci siamo Gabbo di Squared Invitami Eh Dimmi Dimmi Sì Sentiamo C'è da sbloccare lo stadio Le scritte Gatorade Le scritte Gatorade Iscriviti